Hangar 107, via nazionale, Castione Andevenno. Prendete una bici da corsa modificata, con ruote tassellate e telaio rinforzato. Pensate ad un percorso, con tratto in sterrato, tornanti stretti, passaggi in mozzafiato tra gli alberi e discese da brivido. Aggiungete poi ostacoli artificiali o naturali, da oltrepassare a piedi sollevando il proprio mezzo. Il tutto circondato da freddo, fango e fatica. Ecco, mettete tutto insieme ed il risultato si chiama Ciclocross, disciplina che ha dell'incredibile e che domenica è stata protagonista a Berbenno per la prima edizione della Valtellina Cross Cup, valevole come terza tappa del trofeo Lombardia di Ciclocross. A sei anni di distanza dall'ultima gara organizzata in provincia, quasi 160 gli iscritti suddivisi in varie categorie in base all'età che si sono dati battaglia nello spettacolare percorso preparato dal Biciclub Berbenno in collaborazione con l'ASD e Valtellina Pedale Morbegnese. Grande protagonista di giornata è il team Benavì Focus Bike di Tirano che ha fatto incetta di primi posti. Nella categoria junior doppietta per Daniele Flati e Davide Piganzoli, negli allievi secondo anno successo per Patrick da Prada, nelle allieve dominio di Sara Marenghi e negli esordienti primo posto per Valentina Corvi. Eletti anche i campioni regionali nella categoria Master, dove al femminile è Alice Piganzoli del Pedale Morbegnese a festeggiare il titolo. Come federazione ringraziamo gli organizzatori per aver messo in pieti questa bellissima manifestazione e ci auguriamo che tutto questo possa continuare anche per il futuro. Una grande giornata, siamo entusiasti dei numeri che si stanno facendo in questa manifestazione che è di livello regionale. Ciclo Cross, Trofeo Lombardia, organizzata dal Biciclè Berbenno con la collaborazione del Pedale Morbegnese e Valtellina e un grande aiuto da parte dell'associazione di Berbenno, in gruppo Alpini e da ASD Calcio. Quindi una manifestazione corale che vede un sacco di atleti e importanti capacità ciclistiche sul territorio di Berbenno in un momento in cui per l'ennesima volta si dimostra come uno sport come il ciclismo sia in grado di portare pubblico, persone ed attenzioni.